Luca Antonini dal 1973 nella pasticceria Coppello di Chiavari che però trae le sue origini nel 1826 parliamo di panettoni Luca siamo a Natale basta con il panettone scrive Val Times la settimana scorsa troppo dolce pesante ed eccessivamente cotto a dirlo e a scriverlo è il responsabile food appunto del più noto e prestigioso quotidiano londinese cosa pensi di questa dichiarazione in generale è una buttada è una buttada perché è un po come se un produttore di macchine di piccole macchine dice se no la Ferrari non va bene ma ci facciamo dare lezioni di food dagli inglesi no sono bravissimi in tante cose ma nel food lasciamo perdere anche quest'anno la cucina italiana è al primo posto e addirittura la cucina Ligure è al decimo posto in una classifica mondiale quindi prendo l'assist perché sul panettone Ligure detto anche in maniera più precisa genovese c'è una grande tradizione intanto si chiama panettone o pan dolce si chiama pan dolce perché perché è un pan dolce non è un panettone la differenza con il panettone milanese sono a grandi linee quelle delle uova che si dice che una volta si facessero senza uova adesso c'è un po' questa diatriba pan dolce con le uova pan dolce senza uova comunque noi le uova le mettiamo le mettono tutti perché aiutano l'impasto e mentre il panettone ha solo i tuorli la differenza poi lievito naturale le lievitazioni come il panettone milanese però la differenza sta nella quantità di frutta che c'è all'interno del pan dolce e del panettone se tagliamo una feda di panettone troveremo proprio i pezzettini qua e là se togliamo una fetta di pan dolce è frutta è frutta con un po' di pane intorno però l'etimologia è il pane quindi parte dal pane si nasce dal pane perché nasce si dice perché qui poi entriamo nei persiani gli etruschi si dice fosse un pane persiano che era un pane impastato con l'uvetta come ad esempio lo stesso pane che hanno in trentino in alto adige il pane nero impastato con le noci e con l'uvetta quindi parte da lontano e arriva a genova nei periodi del 1400 del 1500 e si evolve fino ad arrivare al pan dolce genovese di oggi che è in due versioni che chiamano tutti i pan dolce genovese ma è il pan dolce genovese è quello alto lievitato e il pan dolce vecchia genova antica genova baciccia come lo vogliamo chiamare e baciccia perché? baciccia probabilmente perché era il nome più diffuso a genova baciccia o bacicin era il nome più diffuso ed è proprio perché il pan dolce basso era facile cioè alla fine il pan dolce basso nasce con che cosa con lievito chimico il lievito delle bustine la bustina di lievito nasce nel 1800 quindi non può il pan dolce vecchia genova essere l'antesignano del genovese proprio perché il lievito chimico nasce nell'ottocento mentre il pan dolce genovese nasceva con il lievito naturale la biga il lievito naturale che ancora tanti conservano però proprio è antecedente al vecchio genova ecco la vostra produzione quella della pasticceria coppello che cosa conserva della tradizione? si conserva tutto perché si parte dal lievito naturale si va avanti si fanno gli impasti si fa l'impasto serale io faccio l'impasto serale il pasticcere fa l'impasto mattutino quindi ci diamo il cambio anche perché il lievito naturale ha questa cosa che non si può abbandonare certo è un po come le mucche non puoi andare in ferie le mucche sono lì hanno bisogno di essere monte il lievito naturale la stessa cosa devi essere lì e lo devi seguire chi sono i consumatori del panettone? il pan dolce sono i liguri sicuramente tanti chiavaresi tante persone tanti clienti che abbiamo dell'entraterra e poi tanti stranieri magari qualche inglese anche tanti inglesi tanti americani siamo venuti in amicizia con una signora che si chiama antonini di cognome come noi e non siamo parenti siamo conosciuti su facebook è venuto a trovarci in negozio si è portata via il pan dolce quello vecchia genova perché ha detto che poi lo voleva replicare sto aspettando mi mandi le foto per vedere a che punto era riuscita a fare il pan dolce vecchia genova in california dov'è il panettone dell'impresa antonini che va più lontano? in in australia ci ha andato portato da una persona che ha il figlio che lavora in australia è andato a portare in australia quindi un po' in tutto il mondo le destinazioni quelle san francisco quindi a questo punto diciamola chiara smentiamo di tutto punto il time e siccome comunque è natale un augurio non si nega a nessuno lo facciamo anche al all'autore di quest'articolo è una fetta di palettone male che vada lo userà per prepararsi il padding sì certamente certamente